Grazie a tutti. Siamo con il diritto di Pierina Paganelli perché ieri è arrivata un'altra novità. Il vicino si riconosce nel video e dice sono io al mille per mille ma ci sono dubbi sull'attendibilità. Poi purtroppo ieri c'è stato un macabro ritrovamento perché è stato scoperto un cadavere nelle acque del fiume Uso. Sarebbe un uomo di 48 anni che pare sia morto per cause naturali. E poi ancora una condanna per quanto riguarda la cronaca giudiziaria. Atti sessuali con una 14 anni. Un educatore è stato condannato e gli atti sessuali accaddero durante un ritiro spirituale. Poi ovviamente abbiamo lo sport in primo piano perché ieri sera ha giocato in Rimini, lo sappiamo. Rimini-Legnago-Salus è finita 1-0. Decide il gol di Chiarella. Allora, cominciamo proprio con il delitto di Pierina Paganelli. Abbiamo detto ci sono delle novità perché un condomino di Via del Ciclamino ha affermato di riconoscersi nel video, il famoso video della farmacia San Martino. Imminente la richiesta di incidente probatorio sul filmato che rappresenta anche la prova regina contro Luisa Silva. Sentiamo. Sono sicuro al mille per mille che quello sono io. Quella sera sono uscito dal bar e sono passato di lì per tornare a casa. Il condomino di Via del Ciclamino, colui che secondo i difensori di Luisa Silva viene ripreso mentre alle 22.17 del 3 ottobre 2023 transita davanti alla Camp 3 della farmacia San Martino, ha ribadito ai giornalisti delle tv che quella sagoma è la sua. Aggiungendo, l'ho detto anche in questura quando gli investigatori mi hanno chiamato. Dichiarazioni che se confermate dagli accertamenti che dovrebbero svolgersi nel corso dell'ormai imminente incidente probatorio, scagionerebbero da Silva. La procura però resta convinta che la sagoma dell'ignoto corrisponda a quella del senegalese e non del vicino, e presto depositerà appunto la richiesta di incidente probatorio. Il condomino e da Silva verranno fatti transitare nello stesso punto in cui viene ripreso l'ignoto e le due immagini verranno poi comparate. L'esperimento, assicura la procura, verrà replicato con le stesse condizioni presenti la notte dell'omicidio. Intanto ieri sera, intorno alle 22, gli avvocati di Luis, Riario Fabri e Andrea Guidi sono tornati in via del ciclamino insieme a consulente e collaboratori per svolgere nuovi accertamenti sul percorso effettuato dal killer. Accertamenti che, a detta della difesa, dimostrerebbero che l'assassino non avrebbe potuto uccidere e poi percorrere il tragitto ipotizzato dall'accusa in appena tre minuti e mezzo. E questo per quanto riguarda il delitto di Pierina Paganelli. Andiamo avanti con la cronaca che vi abbiamo anticipato. Quindi è stato scoperto un cadavere ieri pomeriggio a Bellaria, poco dopo le 15, nel fiume Uso, nel tratto compreso tra il comune di Bellaria Giammarina e quello di San Mauro Pascoli. È stato notato da addetti allo sfalcio che stavano lavorando sulla stradina di Ghiaia lungo il canale e questo corpo riverso in acqua faccia in giù. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un cittadino marocchino di 48 anni. Il cadavere è stato recuperato dalla squadra a soccorso acquatico dei vigili del fuoco e sul posto erano presenti i carabinieri oltre alla polizia locale. E sul nostro sito c'è la fotogallery di questo ritrovamento. Il 48enne regolare sul territorio è stato trasportato poi all'obitorio dell'ospedale di Bellaria Giammarina dove è stata effettuata l'ispezione cadaverica. La morte avvenuta per asfissia con tutta probabilità da annegamento risalirebbe alla giornata di ieri. La prima ipotesi è quella di una morte naturale però chiaramente sarà l'autopsia disposta dal magistrato a chiarire le cause esatte. L'uomo quando è stato ritrovato aveva con sé portafoglio e cellulare. Andiamo avanti dal nostro sito con la cronaca giudiziaria perché è stato condannato a 4 anni di reclusione dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia. Andrea Davoli, 52 anni, professore di religione di Reggio Emilia, accusato di aver avuto rapporti sessuali con una ragazzina di 14 anni mentre era in ritiro spirituale a Rimini durante un meeting di CL. Il ritiro spirituale che si era tenuto in preparazione alla Pasqua dal 6 all'8 aprile 2023. L'inchiesta era stata aperta dal sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani e ieri pomeriggio, in rito abbreviato, l'educatore è stato condannato a Reggio Emilia, Tribunale che nel corso delle indagini era stato ritenuto poi competente territorialmente. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche e ritenuto che ci fosse consenso della ragazzina, seppur viziato dalla minoretà, quindi il reato è stato riqualificato in atti sessuali con minorenne da violenza sessuale, quindi, che era. L'uomo all'epoca dei fatti era responsabile provinciale di gioventù studentesca Don Giussani a Reggio Emilia, movimento che fa parte dell'ambito di comunione e liberazione, che consiste in un percorso formativo riservato agli studenti con momenti di incontro e ritiri spirituali. Sette gli anni di condanna che erano stati chiesti dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. I genitori della ragazza e la ragazza si sono costituiti parte offesa, chiedendo un risarcimento di 200 mila euro per la giovane e 50 mila per i genitori. Il giudice invece ha stabilito una provvisionale di 50 mila per la ragazza e 20 mila per i genitori. Davoli si trova ancora in carcere dal 18 luglio di quest'anno e ha già scontato oltre un anno di reclusione. Allora, noi andiamo avanti con la cronaca perché questa storia che è stata raccontata ieri purtroppo ci riporta a parlare delle truffe agli anziani, ma c'è stato, se vogliamo dire così, un lieto fine perché questa anziana è stata truffata da un finto nipote, si tratta di una signora di 82 anni che ha consegnato gioielli e contanti al truffatore che era un diciannovenne, però subito dopo che si era resa conto di quello che stava succedendo ha chiamato i carabinieri e il truffatore è stato arrestato. Sentiamo. Nonna, c'è da risolvere un grosso guaio, ma al telefono non era sua nipote, bensì un truffatore di 19 anni. Sembrava una preda facile, ma alla fine la signora di 82 anni, vittima del raggiro, ha ripreso consapevolezza di quello che le era appena successo e ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato in flagrante per truffa. Si tratta di un ragazzo marchigiano, residente in Campania, che si è finto nipote della donna e ieri pomeriggio ha chiamato, fingendo mal di gola per giustificare la voce non familiare, per chiederle denaro perché la mamma aveva avuto un problema di giustizia e serviva immediatamente denaro per risolvere un grosso guaio. Dopodiché ha detto che a breve sarebbe passato un suo amico a ritirare soldi e preziosi. Pochi minuti dopo però è stato lui stesso a suonare il campanello della vittima con uno zainetto per simulare di essere uno studente di liceo, come il suo vero nipote, e farsi consegnare un bracciale, spille, un orologio e 800 euro in contanti. La signora, passato lo sgomento iniziale, si è però resa conto di essere stata raggirata e ha contattato il 112. I carabinieri hanno bloccato il 19enne nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Nello zaino c'erano gli oggetti rubati, nascosti tra libri e quaderni di scuola. La refurtiva è stata restituita all'anziana e lui è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza. In mattinata è stato convalidato l'arresto. Pare che il ragazzo girasse l'Italia in treno per perpetrare tali truffe. Sarà verificato se ne abbia commesse altre in questo territorio. Al momento risulta incensurato. Difeso dall'avvocato Andrea Guidi, il 19enne ha chiesto il patteggiamento. L'udienza sarà il 31 ottobre. Andiamo sulle concessioni dei Magnali perché si sblocca il decreto fitto proprio sulle concessioni dei Magnali. Ma non si placano le polemiche. Gli operatori balneari pensano a questo punto di ricorrere alle vie legali. Sentiamo Andrea Polazzi. Dopo l'inatteso stop nella seduta precedente, le commissioni finanze e giustizia della Camera dei Deputati hanno dato lunedì sera il via libera al decreto salva infrazioni, che comprende il cosiddetto decreto fitto sulle concessioni dei Magnali. Il testo approvato, nato da una condivisione con l'Unione Europea, non introduce modifiche sostanziali ed è il via libera alla messa a gara delle concessioni da parte degli enti locali entro il 30 giugno 2027. Appena un paio i cambiamenti. Il primo prevede l'esclusione dall'ambito d'applicazione della direttiva per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, titolari di concessioni balneari, che svolgano le attività no profit in via stabile e principale, come ad esempio i club nautici e i circoli velici. L'altra modifica prevede invece che i manufatti amovibili presenti sulle concessioni, fino alle nuove aggiudicazioni, possano essere mantenuti anche durante la stagione invernale. Niente da fare invece per il riconoscimento del valore aziendale ai gestori uscenti. Il decreto prevede solo che i nuovi gestori riconoscano ai titolari uscenti un corrispettivo economico pari agli investimenti non ammortizzati e all'equa remunerazione di quelli effettuati negli ultimi cinque anni. A calcolare l'indennizzo sarà un perito sulla base dei criteri che il Ministero dovrà emanare entro il 31 marzo del prossimo anno. Sul piede di guerra, le categorie che contestano il mancato inserimento del valore d'impresa per indennizzare il concessionario uscente. Nel mirino anche il mancato inserimento di un numero minimo dei bandi a cui un unico soggetto può partecipare. Aspetto che, secondo gli operatori, rischia di aprire le porte alle grandi multinazionali. E tra i balneari c'è chi pensa anche di ricorrere alle vie legali. E se gli operatori si sentono delusi e traditi dal governo, anche le opposizioni puntano il dito sull'esecutivo. Gli onorevoli riminesi di PD e Movimento 5 Stelle, Gnassi e Croatti parlano di promesse non mantenute e capriole politiche. Il decreto ora dovrà passare in aula per la conversione in legge entro il 16 novembre prossimo. Incontro partecipato nella sede della Fondazione Righetti di Rimini, dove si è aperto l'anno sociale dell'Università Popolare. A inaugurare le iniziative che si succederanno fino a primavera, il Vescovo Nicolo Anselmi, invitato a parlare del giubileo che la Chiesa vivrà nel 2025 e a declinarne alcune linee per la diocesi. Sentiamo. La Chiesa riminese si prepara a vivere il giubileo, seguendo le orme spirituali di Papa Francesco ed innestandole nella vita della diocesi, nel desiderio di essere voce di speranza in tante situazioni di difficoltà. Ne ha parlato il Vescovo Nicolo Anselmi all'apertura dell'anno sociale dell'Università Popolare della Fondazione Righetti, riprendendo anche alcuni passaggi della sua prima lettera pastorale, tra i temi più sentiti quello della casa. In ogni zona pastorale, scrive, si potrebbe trovare una casa in cui accogliere famiglie e persone in difficoltà. In molti casi non è semplice trovare una casa a prezzi accessibili nelle nostre città, per cui vorremmo impegnarci un pochino su questo tema dell'abitare, per chi è più in difficoltà possa riuscire a non dover andare, se ha le sue radici qui, possa riuscire a non dover andare via da Rimini. Per cui è stata già costituita una commissione sul tema della diocesana, giubilare sul tema della casa. Segno di una chiesa in cammino e aperta alla speranza è anche la scelta dei luoghi giubilari. A Rimini non saranno solo la cattedrale, le chiese e i santuari, ma anche il carcere, la carita, se la cappella dell'ospedale. Una particolare attenzione nell'anno del giubileo sarà data alle missioni, a quelle di Mutok, in Zimbabwe, di Berat, in Albania, ma anche a quelle nate in diverse parti del mondo grazie agli istituti religiosi riminesi e al Venezuela, dove proprio in queste ore ha fatto ritorno Donaldo Fonti. Altro punto centrale, sottolineato dal Vescovo Nicolò, la carità. La prima cosa è che dalla nostra Eucaristia che celebriamo deve nascere la carità. Per cui ho chiesto proprio che, molto semplicemente, durante le processioni offertoriali della domenica che faremo nelle nostre chiese, almeno nella messa principale, insieme ai ragazzini, il catechismo, va a sapere, vengano veramente portati all'altare dei beni alimentari. Veramente sarebbe bello che il giubileo fosse una celebrazione dell'amore e del perdono. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Rimini-Legnago Salus è finita 1-0, ha deciso il gol di Chiarella. Allora noi sentiamo il dopogara dell'allenatore del Rimini, Antonio Buscecchi, che ha spiegato le scelte di formazione e il piano partita. Sentiamo il suo commento a caldo. Sapevo che era una partita molto, molto difficile. Lo sapevamo. Sapevamo di gestire la partita in un certo modo e quando ho parlato con lo staff da ieri a oggi bisognava fare questa gestione. Primo tempo portarla con un risultato positivo, secondo tempo nei cambi, alzare il livello, ma non perché il primo tempo il livello che ha giocato non ha fatto bene, anzi, però gente come Semeraro, gente come Accursi, Accursi non aveva mai toccato il campo, Semeraro era un bel po' che non giocava, piccoli, stanco, Fiorini uguale, Langella sta tirando la carretta da quando abbiamo iniziato il ritiro. Quindi sapevamo che era una partita di grande difficoltà e quindi la gestione è stata come si è fatto, sperando che poi il secondo tempo con i cambi si riusciva a dare un cambio di marcia. Quindi ci siamo riusciti, bravi ragazzi, bravi davvero perché non è facile e non era scontato che arrivasse qui Legnaco e la partita era scontata che magari la potevamo vincere. Quindi bisognava avere la forza, il coraggio, l'equilibrio e i ragazzi sono stati bravi fino alla fine a gestire la partita e poi portare a casa il risultato fondamentale. E la trovate sul nostro sito questa notizia, stamattina è arrivata l'ufficialità, la leggiamo insieme perché il Rimini Football Club a Gubbio sarà senza tifosi al seguito per quanto riguarda la partita del 2 novembre. Allora leggiamo questa nota, il Rimini Football Club comunica che la prefettura di Perugia su richiesta della questura di Perugia ha disposto per la partita a Gubbio Rimini Football Club del 2 novembre del 17.30 allo stadio Barbetti di Gubbio il divieto di vendita dei tagliandi d'ingresso ai residenti nella provincia di Rimini. La trovate sul nostro sito. E noi allora andiamo avanti adesso parlando di basket. Riviera Banca Rimini con il suo vice allenatore Sergio Luise è stato ospite ieri sera a Calcio.Basket ha commentato la vittoria di domenica nel derby del Flaminio con l'Uniauro Forlì e presentato la sfida di venerdì sera a Torino. Sentiamo. È stata una partenza che non era quella che ci aspettavamo o meglio quella che speravamo di avere perché non sono tanto le percentuali, quella che ovviamente rispetto alla seconda parte abbiamo avuto un miglioramento, ma è stato soprattutto il nostro atteggiamento in difesa, un po' troppo remissivo. Che cosa le avete detto ai ragazzi all'intervallo? Ma abbiamo ricordato che comunque è impensabile poter affrontare una squadra come Forlì e magari aspettare in difesa ma non essere aggressivi. Se tu vuoi imporre la tua pallacanestro in attacco anche deve partire da una difesa che sia competente nel senso che possa non subire quello che gli attaccanti fanno indirizzare l'attacco dove vuoi tu, dove sei più forte. Quindi abbiamo chiesto nello specifico su pick and roll di essere un poco più alti ai lunghi e di iniziare a prendere Harper in particolare già dalla metà campo. Abbiamo fatto un'ottima settimana di lavoro quindi sapevamo che i ragazzi erano in grado di fare questo cambio e in difesa l'hanno fatto. Che partita ci devono aspettare a Torino? A Torino ha cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso dall'allenatore a tanti giocatori quindi magari in questo periodo sta attraversando una serie altamente di risultati. Però è una squadra di talento, ha due americani che producono tantissimo diciamo quasi la metà dei punti e dei tiri. Sono due giocatori con caratteristiche ben definite è un lungo che è simile anche al nostro Justin è una guardia con molto talento però poi ci sono anche dei giocatori italiani esperti, Landi, Montano, Severini quindi non sarà come tutte le partite di questo campionato non c'è una partita che uno può definire semplice in più sappiamo che Boniccioli è un allenatore esperto e quindi capace anche di presentare qualche trappola E diamo spazio anche al volley perché c'è stata la terza puntata di Icaro Volley ieri sera su Icaro TV ospiti le giocatrici di OMAG MT San Giovanni in Marignano Giulia Polesello e Anna Piovesan quest'ultima ha riflettuto sull'impegno e i sacrifici che un atleta deve sostenere per portare avanti la propria attività la sentiamo Tu scrivi una vita d'atleta come la mia in cui non sempre viene capito il sacrificio effettivo che si fa e questo non c'entra le categorie ma è uguale per tutti essere un atleta è bello ma non è facile nel senso che vivi fuori casa sei da solo e il tempo anche solo di farti la lavatrice che ti faceva la mamma prepararti da mangiare, pulire casa, fare il borsone gestire quelle che sono pressioni in palestra e fuori dalla palestra nel frattempo devi studiare devi prepararti per l'allenamento però ti devi anche riposare perché poi arriva l'allenamento con gli occhiai la vita sociale vabbè se c'è tempo e quindi spesso non si realizza veramente quanta fatica un atleta faccia e quanto sia maturo a organizzare il tutto Andiamo alle previsioni del tempo prima quelle regionali per oggi per questo mercoledì 30 ottobre 2024 cielo sereno poco nuvoloso con foschie diffuse e locali nebbie a ridosso del Po in dissolvimento durante la mattina e nuova formazione invece nella sera notte le temperature massime senza variazione di rilievo con valore attorno a 19-20 gradi venti deboli in prevalenza occidentali mare quasi calmo poco mosso andiamo a vedere il dettaglio sulla provincia di Rimini ci parla di un pomeriggio piuttosto assolato quindi senza piogge e la sera arriverà qualche foschia specie sulla costa il sole oggi è sorto alle 6.44 tramonterà alle 17 ed è tutto per noi grazie dell'attenzione vi ricordo l'edizione serale del nostro telegiornale alle 19.15 con la replica alle 20.15 e dalla redazione un buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti